Il mio padre era un grande uomo. Un eroe, così dicono. Ma a volte al mondo non serve un altro eroe. A volte c'è bisogno di un mostro. Mio principe. Mi sei mancata. Sei turbato. Il sultano si prepara a combattere. E vuole nel suo esercito mille fanciulli. Anche tuo figlio. Corri da tua madre. Non guardate! Non puoi proteggerci. Troverò il modo. Ho aspettato un'eternità che arrivasse un uomo con la tua forza. Che cosa stai cercando? Voglio il potere di distruggere i miei nemici e salvare la mia famiglia. Bevi, Dracula. Che cosa ti succede? Sono ciò che gli uomini temono. Non un fantasma. Qualcos'altro. Vedo in lui il demonio! Pensate di essere vivi perché sapete combattere! Voi siete vivi a causa di quello che ho fatto per salvarvi! Non dovete mai dimenticare chi sono. Non dovete mai per loro! Dimenticare! Ecco!